Rimpatriata scolastica anno 1978-1979 degli alunni dell'Agraria, rimpatriata in un noto locale pubblico. Presenti anche qualche docente. Questi i loro nomi, Angelo Cacciatore, Gaetana Caruso, Roberto Emanuele, Carlo Furusione, Vincenzo Loiacono, Concetta Lupo, Franco Ognibene, Calogia Rappizzuto, Loreto Sanfratello, Cettina Seilita, all'anagrafe Antonio Maria Concetta e Lucia Strazzeri. Da dire subito che i legami fra questi compagni di scuola non sono stati mai interrotti, è la riprova e la rimpatriata di qualche sera fa. Presente il docente padre Giuseppe Cateriniccia. Man mano che ho già l'appello e si presenta qua l'interessato, vorrei che è stato un po' un'immagine che si presenta qua l'immagine che si presenta qua l'immagine di madre Teresa che ora prossimamente il 4 settembre sarà dichiarata stata. Dunque una rimpatriata fra compagni di scuola dopo 37 anni, uno di loro è arrivato da Torino ed evidentemente non poteva mancare la foto di gruppo. Un'abbiamo! 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 Un'abbiamo!